Da sabato scorso la sala operativa della pubblica assistenza Procivis di via Ossidiana 23 a Gela è intitolata a Giacomo Ferrera, già coordinatore provinciale del servizio Emergenza Radio e della Federazione Italiana Rige Trasmissioni. Ferrera si è spento un anno addietro. All'iniziativa di sabato erano presenti numerosi volontari. L'eucaristia è stata celebrata da donna Raimondo Giammusso. Al termine della messa, la presenza della moglie di Ferrera, Maria Granvillano, è avvenuta l'intitolazione. Giacomo Ferrera rappresenta, oltre a rappresentare un collega, un amico, rappresenta anche un presidente che in passato si è dedicato alla protezione civile, fondando la prima associazione di protezione civile nel nostro territorio di Gela. Per noi, oltre a rappresentare tutti i volontari, chi più o meno offre il proprio tempo libero a beneficio della collettività, naturalmente lascia un'impronta importante nella nostra città. E quindi ricordare la figura di Giacomo Ferrera sinceramente diventa anche un ringraziamento, un ringraziamento per colui il quale ha aperto la materia della protezione civile nel nostro territorio. Quindi ricordarlo significa anche ringraziarlo per quello che ha fatto. Gli insegnamenti che lui ci ha lasciato è quello di darci la possibilità, soprattutto di specializzarci nell'ambito delle radiocomunicazioni. Ecco, ricordo quanto ero ancora volontario all'inizio, quindi delle prime armi all'interno della CB Vittorio Costa. Si facevano tanto per le radiocomunicazioni, si facevano delle prove tecniche con altri centri operativi dove si testavano proprio gli apparati radio in caso di emergenza. Poi successivamente, ecco, dalla CB Vittorio Costa ho seguito, diciamo, ho aperto un altro settore sempre nell'ambito della protezione civile, quella della Procivis, nel territorio che si occupa di sanitario e di protezione civile. Cosa ci resta? Ci resta soprattutto un modo anche per poter comunicare, un modo per dare testimonianza che le radiocomunicazioni in caso di emergenza diventano importanti. Il messaggio di oggi in questo primo memorial è quello di intitolare la nostra sala operativa a una persona che si è speso per il territorio come Giacomo Ferrera. E questo è stato il nostro grazie da volontari a questo volontario, un collega fra tanti colleghi.